Ogni volta che leggo il giornale, dunque ogni mattina leggo tutti i quotidiani che ci sono un ticino e sono solo due alla fine, la domenica, poi mi viene veramente da dire se leggiamo delle notizie vere o leggiamo delle minchiate. Allora, in un momento di crisi dove non ci sono soldi, dove assolutamente per la 13. Ed è un tema che bisogna ritornare a questo inghippo dove i partiti storici e la destra dice non ci sono i soldi, come facciamo a dar la 13esima, poi leggiamo la posta 246 milioni di utili va male perché ne ha fatti 45 e meno dell'anno scorso, ma ha fatto 245 milioni di utili. La Banca Stato ha fatto 100 milioni di utili ed è forse l'unica che possiamo salvare da tutto il gremio dell'economia perché 65 li riversa al canton ticino e questa è veramente l'unica nota seria e positiva. Ma tutte le altre, grazie alle istituzioni, luiscom, UBS, 29 miliardi di utili tra l'altro, Banca Nazionale che ci dicono che fanno i passi poi alla fine fanno gli utili. Un sacco di aziende che fanno utili ma non hanno i soldi per dare la 13esima UBS o stanno litigando per dare la 13esima UBS decisa dal popolo, dal popolo, non decisa dal primo pirla che esiste, il popolo. Poi continuiamo nello sfogliare i quotidiani e veramente alla fine ci viene quasi da dire se ha senso leggere ancora i giornali o non leggere. A parte che ci sono notizie drammatiche dove incidenti della circolazione di persone molto anziane che vanno in macchina e uccidono altre persone perché gioco forza hanno dei riflessi inferiori. Dunque bisognerebbe anche qui fare dei controlli medici da 70 anni insomma in maniera di garantire che chi guida abbia dei riflessi almeno minimi tali da poter frenare se vede un pericolo che va sulla strada. Invece i controlli sono all'acqua di loro addirittura li hanno posticipati a 75 anni per cui veramente è il non senso. Noi vogliamo puntare sulla sicurezza purtroppo ci sto arrivando anche io a questa età e sarà molto vicino ma bisogna assolutamente che vi siano dei controlli medici seri e anche psicologici al limite con magari anche un piccolo esame pratico di guida non dico teorico se no lo boccieremo tutti questo è poco ma sicuro ma almeno pratico in cui uno attesta ok questa persona pur avendo 70 anni può guidare la macchina questa persona pur avendo 80 anni è in grado di guidare la macchina senza creare pericoli a se stesso e altrui. Questi controlli non vengono fatti. Peccato veramente peccato ma vi sono tantissimi altri temi che fanno un attimino rabbrividire la pelle. Parliamo di giudici pretori magistrati le nomine addirittura propone nominare per sorteggio i procuratori e giudici quelli che devono decidere sulla giustizia sulla giustizia su se uno è colpevole o non è colpevole noi li tiriamo a sorte o gli eleggiamo grazie all'appartenenza politica e non grazie alla meritocrazia ma l'industria privata lo sanno queste persone sono i soliti 90 parlamentari che ci sono in Ticino che ne fanno di cotte di crude e lavorano contro la popolazione lo sanno queste persone che nell'industria privata è solo grazie alla capacità e competenza che vengono assunte le persone specialmente in ruoli così importanti. No qui si propone per area d'appartenenza può essere anche di cazzù e non lo sono di sicuro perché ha gente che ha studiato preparatissima sicuramente però magari non hanno quelle competenze anche umane necessarie per valutare dei casi anche difficili la giustizia questi qui che vengono eletti per l'appartenenza politica sono quelli che un domani decideranno se tu sei colpevole o non sei colpevole per cui gravissimo il teatrino a cui abbiamo assistito è semplicemente vergognoso di un cantone retrograde che non ha capito come la giustizia deve essere separata dai poteri politici ma da una parte sappiamo tutti come funzionano le cose ecco continuiamo a leggerli questi giornali facciamoci le nostre opinioni alla fine non possiamo neanche più farci una risata perché veramente quello che sta succedendo è gravissimo e dobbiamo una volta per tutte combattere queste cose occasioni perfette le votazioni comunali per votare non i partiti non le appartenenze di area politica ma le persone solo le persone competenti non votiamo i cazzù che vanno lì perché devono andare lì perché poi saranno le pedine di grandi gruppi economi no votiamo giovani donne gente che non ha mai fatto politica che probabilmente ci mette l'entusiasmo la capacità e sbaglierà pure ma sbaglierà in buona fede e non sapendo di sbagliare